Dopo il danno alla beffa, è quella che rischiano di subire i 121.000 azionisti di BPV e Veneto Banca che nei mesi scorsi hanno aderito all'offerta di transazione lanciata dai due istituti di credito veneti e che oggi, stando ad un parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, potrebbero vedersi costretti a pagare le tasse sui rimborsi già esigua parte rispetto agli investimenti effettuati e ormai persi. Per noi è sicuramente una cosa non solo errata ma credo anche un abuso perché qua stiamo parlando di soldi che vengono restituiti agli investitori che hanno perso quindi è stata restituita una parte di questi soldi che sono stati persi, quindi non c'è un guadagno. Già, sui guadagni le tasse vanno applicate ma come può essere considerato un guadagno la restituzione di 10 a fronte di un investimento perso di 100? Questa applicazione di tassa che la banca potrebbe proporre o comunque viene fatta credo che sia illegittima e verrà sicuramente impugnata dai nostri tributaristi. Quindi possiamo pensare a un'altra ondata di ricorsi? Ma qua credo di sì e credo che potrebbe esserci buoni i presupposti per vincere una cosa di questo genere perché la riteniamo proprio assolutamente iniqua, ingiusta e anche secondo me contro legge. Grazie 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 Grazie